Un suo appezzamento di terra viene portato via? Sì, tutto questo pezzo fino a giù in fondo, 4800 metri circa di terra, compreso il pezzo di giardino, il cancello, piante, giù in fondo 50 viti e due ciliegi e viene tagliato tutto. In pratica rimane poco dalla parte di qua che si salva ma poco e niente. In pratica fra la terza corsia e questa strada qui tutta la terra che avevamo l'hanno portata via tutta, rimane solo qualche centinaia di metri. In più abbiamo pagato per questi anni tutto 10 volte tanto, da 156 euro che pagavo sono passato a 1118 e loro non lo riconoscono perché ci ha sbagliato il comune. Per cui pagano 7,50 euro come se fosse agricola e basta. Qualcuno bara, di questi due qualcuno bara, è lampante che c'è qualcosa che non funziona. La costruzione di un'ulteriore strada accentuerebbe nuovamente ulteriori disagi, un ulteriore smog, inquinamento, rumore, quindi con difficoltà sia per gli stessi residenti che abitano attualmente in questo quartiere, sia anche per lo stesso stato di salute dei residenti o di nuove persone che vorrebbero abitare in questa bellissima zona perché alla fine è una bella zona periferica di Fano. Vi pagano come terreno agricolo questo, in realtà non come... Come terreno agricolo, come terreno agricolo è la proposta. Poi è chiaro che nel verbale di emissione in possesso uno ha fatto presente le proprie considerazioni, però ancora non sappiamo niente. Chiedo, effettivamente c'è un'utilità per questa strada oppure è a guadagno di pochi e a scapito di tanti? Grazie.